Quindi manca ufficialmente solo il pavimento Che dire solo è un tutto dire perché il pavimento è veramente la parte peggiore Comunque, se siete arrivati fino a questo punto del video vuol dire che o vi sto simpatica o avete il gusto dell'orrido In entrambi i casi, vi dico, seguitemi, lasciate un like e un commento se vi va Dunque, come dicevo prima, la scopa non la posso passare perché ci sono tutti peli, cose a terra Quindi come prima cosa passo il mocio Poi cambio gli asciugamani, anche questi li dovrei cambiare perché si sono tutti induriti Forse li lavo male, boh E il bagno è ufficialmente terminato Più tardi quando si asciuga ripasserò la scopa e poi di nuovo il mocio Come sempre spero che questo video vi sia piaciuto Io vi aspetto su IG, YouTube e TikTok